John, le immagini mostrano tre elicotteri coni. Sono i tuoi bersagli. Bravo, 6-1. In arrivo alla zona d'atterraggio. Ti vedo, capitano. Ti terrò aggiornato da qui. Grazie dell'aiuto, Watcher. Per Makarov bisogna mobilitare tutti, John. E' da questo se... Basta con le buone maniere. Attenzione, vediamo pattuglie coni sul perimetro esterno. Stanno setacciando l'area. Sali addosso! Niente dute anti-radiazioni. Strano. Non cercano solo materiale nucleare. Non perdeteli. Ok, Watcher. Attento, ti stanno cercando. Bravo, 7-1. In posizione. Perimetro esterno sicuro. 0-7, pronto. Bravo, in posizione. Per il procedere 6. Coni intorno all'elicottero. Penso io!